Saranno due giorni di confronto e di dibattito utili alla riorganizzazione della Segreteria Provinciale della Cisla Rezzo. Si svolgerà giovedì 30 e venerdì 31 marzo, infatti, il diciottesimo congresso provinciale del sindacato. Noi rappresentiamo circa 23.000 iscritti e abbiamo risolto con un accordo a livello di organizzazioni sindacali i problemi sulla rappresentanza, almeno sulle regole. Ci troviamo in difficoltà soprattutto con le nostre controparti che spesso in quest'ultima fase si sono date anche a setti diversi dai nostri e non le troviamo presenti come vorremmo. Noi pensiamo che una ripresa della contrattazione, perché questi anni sono stati anni anche di fermo sul piano dei contratti, ridì a slancio anche alla rappresentatività. Ecco, io legherei la crisi della rappresentatività con una crisi di accordi, con una mancanza di contrattazione, di concretizzazione dei rapporti. Un appuntamento che sarà anche l'occasione giusta per procedere al rinnovo delle cariche istituzionali e politiche. Il congresso della CISL arriva dopo quattro mesi di incontri e assemblee all'interno delle varie sezioni presenti in tutte le vallate della provincia. Io inizierò con la mia relazione ad analizzare quella che è la situazione della provincia, una situazione di grande frammentazione. C'è bisogno di ritrovare dei momenti di unità a livello di sindacato e di istituzioni. Dobbiamo ristabilire quali sono le priorità necessarie a rilanciare questa provincia in termini di sviluppo e in termini di stato sociale.